Taormina Culture Excellence Significa presentare una delle cose più belle che Taormina può dare in questa stagione? Sicuramente già Taormina è una grande, meravigliosa, straordinaria eccellenza perché è un posto veramente straordinario che io amo molto dove mi piace sempre ritornare sia per lavoro come in questo caso per una manifestazione così prestigiosa sia in vacanza o per vedere qualche concerto o anche semplicemente per passeggiare sul corso o nei suoi meravigliosi vicoli per cui questo premio a Taormina trova la sua collocazione ideale poi stasera siamo anche in questo scenario che è un tempio della cultura siciliana, romana e greca antiche e quindi insomma tutte le volte che vieni qui anche solo per assistere ad uno spettacolo anche solo per passeggiare qui dentro è un'emozione quando poi ci devi anche lavorare come io farò stasera insieme con Angelo Scaltriti puoi immaginare che l'emozione si moltiplica e diventa veramente una cosa bella, positiva Salvo noi parliamo di cultura, di scienza, parliamo anche di musica parliamo anche di quelle che sono le vibrazioni che questo teatro può dare agli artisti che saliranno qui sul palco, parliamo anche di cinema parliamo di tutto, significa un'eccellenza a 360 gradi? Ma guarda, lo dicevo prima, questa è una città che emoziona ricordiamoci bene i tempi d'oro di Taormina che cominciarono negli anni 60 quando tutti i divi americani, tutti gli stranieri venivano qui ho visto tanta gente, tanti stranieri, tanti turisti anche adesso segno che Taormina ha sempre un fascino veramente incredibile per cui organizzare qui manifestazioni importanti come i festival del cinema come i vari premi, come i grandi concerti estivi come questa manifestazione di stasera è sicuramente un fatto positivo bisognerebbe anche destagionalizzare per portare sempre più gente anche nei mesi non estivi perché è chiaro che poi l'attrazione importante è soprattutto in estate, c'è anche il mare e questo è veramente un posto straordinario se ci affacciamo proprio da qui vediamo un golfo che è veramente un patrimonio dell'umanità Assolutamente Chiudiamo con due nomi per tutti, ovviamente uno sullo sport Pietro Lomonaco e l'altro Antonio Ruggero che farà il suo concerto Sì ma sono tutti premiati sicuramente molto importanti e molto prestigiosi io ci voglio mettere anche il dottore Arena, questo medico catanese che come tanti altri grandi talenti siciliani non solo in campo medico ma insomma in tutti i campi dello scibile umano ha trovato e ha fatto fortuna all'estero ma mi piace che lui abbia iniziato questa campagna di insegnamento delle sue tecniche legate alla chirurgia contro i tumori alla laparoscopia, insomma alle cure dei tumori abbia iniziato questo tour in giro per il mondo verrà anche qui e averlo stasera a casa sua in Sicilia lui è catanese, qui a Taormina mi sembra veramente una cosa importante e poi tutti gli altri veramente è una serata importante che poi si chiuderà col concerto di un'altra grande eccellenza nel campo della musica che è Antonella Ruggero che devo dire in questo teatro ci sta benissimo assolutamente grazie Salvo, alla prossima grazie a te grazie